la valorosa temerere del 1839 non è solo un dipinto ma un manifesto che segnò la mutazione radicale della storia dell'umanità la grande nave temerere era veterana della battaglia di trafalgar del 1805 battaglia dove l'ammiraglio nelson al comando della flotta inglese sconfisse l'armata navale di napoleone perdendo però la vita nel conflitto è curioso come una delle navi britanniche che contribuirono alla vittoria contro le flotte combinate di francia e spagna avesse proprio un nome francese oggi quest'imbarcazione sarebbe stata sicuramente destinata a riposare in un museo navale o della guerra in fondo fu quella la battaglia che segnò i destini dei mari e dei rapporti tra europa inghilterra e terre d'oltreoceano invece la nave rimase ormeggiata fino al 1838 quando fu definitivamente dismessa e rimorchiata dalla modernità a vapore per essere portata alla demolizione nel cantiere navale di rotherhite tarner era sessantenne quando dipinse l'opera e qui ci mostra la sua padronanza delle tecniche pittoriche nel rappresentare la nave il mare e il cielo per fare ciò applicò alla tela un sottile strato di smalto chiaro su cui una volta asciutto trascinò il pennello lasciando tracce di colore denso a intervalli irregolari creando un forte effetto drammatico al contrario del fondo i dettagli della nave sono meticolosamente dipinti quasi con religioso rispetto il dipinto fu pensato per rappresentare il declino della potenza navale della gran bretagna e proprio per questo tarner si prese delle licenze poetiche che non rispecchiano proprio la realtà ad esempio la nave è mostrata in viaggio verso est lontano dal tramonto anche se rotherhite si trova a ovest ma la preoccupazione principale dell'artista era quella di evocare un senso di perdita piuttosto che registrare con precisione i fatti inoltre la temerere era ormeggiata già da 13 anni per cui tutto quello che la marina poter riciclare era già stato rimosso dai suoi tre alberi maestri in quercia ai cannoni ma tarner la rappresenta intatta una visione eterea leggiadra tutta oro e argento simile all'immagine di un vegliero fantasma al contrario il nuovo rimorchiatore a vapore che la trascina lungo il tamigi è più piccolo scuro quasi losco con quella grossa ciminiera che vomita fuoco una curiosità nelson lo si può vedere proprio di fronte alla national gallery di londra dove è conservato il dipinto c'è la sua statua in cima a un'altissima colonna in mezzo a trafalgar square la piazza prende il nome proprio dalla battaglia a cui la nave ha partecipato se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao